Sono una più bella del Dario, ma per me. Io devo fare un grande applauso che stasera manca una Dario che quest'anno per giù ha vinto il concorso sia quello regionale che quello nazionale, la nostra fan fatale che sta alla febbre, quindi un applauso a fan fatale, lo facciamo? A mia figlia, gli erosi finti su, a darne qualcuno che non è figlia mia, però va bene così, però quelle mie sono ben riuscite, le cose dicono tutte cose perché è giusto possibile. E va bene, un bacione a fan fatale, noi siamo pronti, lei è pronta, lei stasera è stupenda, qua è la residence di, come, vocalist, per voi, per noi, per me, per lei, la nostra Glamour! Grazie! 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti!